Oggi fuori a Milano quanto spazio ha un anziano? Tantissimo, no? Cosa va a fare? Ci sono tante alternative. Può andare, che so io, va fuori e si va... Non c'è un posto per andare. Va dove? Va a vedere gli incidenti. Sugli angoli delle strade gli anziani hanno questo compito, oramai a gruppi di tre col cappello, che prendono gli incidenti, fanno la perizia già incorporata. Sciola che botta, saranno 3.000 euro. Sono lì, istituzionali, quando le vedi a tre dici, minca, qua ci sono incidenti, perché sono lì che li guardano. E poi vanno in giro per i cantieri. Oggi a Milano ormai ci sono più buchi che durante la guerra, grazie alla Shura Yoko Onu, la nostra sindacchessa. Ci sono buchi dappertutto. Lei l'ha deciso, qui facciamo una cosa, per adesso che in do my bus. Domani verranno sui funci, non lo so. E l'anziano cosa fa? Si mette dietro lì e guarda. E poi ogni tanto fa... E quello che lavora, l'estracomunitario con piccone... E un attimo, eh, far andare via il piccone e fare un piacere all'Inps, qua, lo porti via. Non hanno nient'altro da fare. E d'altronde dice, vai al parco, vai al parco, c'ho le panchine e stai da mangiare ai piccioni. Oramai c'è talmente povertà nelle pensioni che sono i piccioni che portano il pane secco agli anziani. E dice, oh, lì si vergognano. Le panchine, non ci sono più le panchine, le stanno togliendo una a una. Perché? Perché dicono che nelle panchine vanno a sedersi i drogati di notte. Io ho chiesto all'anziano, ma scusi, cosa fa? E lui mi ha risposto, ma scusa, ma... Invece toglie le panchine perché non tolgono i drogati. Gli è venuto sto dubbio. Allora dove va? Vai al bar. Al bar non puoi più andare. Al bar una volta potevi fare una consumazione di un bianchino, stavi lì, giocavi a carte. Tre, set, cinque, voto, due, quattro, sei. Era bello, no, giocare a carte. Adesso non puoi più, perché è tutto veloce, devi consumare. C'è il metronomo degli scacchi, ogni mezz'ora un bianco. Poi per leggere il giornale fa venire la cirrosi a un uomo, no? E gli vanno lì, andiamo, andiamo, andiamo. Sembrava anche lì, poi veniva il videopoker, tutte queste cose. Le partite di scopo erano bellissime. L'anziano era lì, nei vecchi tranni di Milano. E guardavo con la fiancola. E lui fa... C'è sempre uno che non capisce un cazzo nei quattro che gioca. E facevano i segni, a un certo punto uno si incazzava. C'era sempre quello dietro che non giocava e guardava. Giocava a queste carte e gli fa... Allora, scusami un minuto. Se lui la gioca il 5, è mio, scendo col 2. 5, 2, 7, non è che io porto via, lui non c'ha più donne, mette giù il 7 bello, facciamo ori, carte, premiera, 7 bello e Napola. O no? Eh ma mi, eh ma ti un cazzo, te capisci niente. E quello in alto, che in piedi... Cioè io avrei giocato, tu stai muto perché quando ci giochi metti il culo sulla sedia, se no stai muto. Le riunioni a Palazzo Chigi, al governo, si fanno così, sono uguali. L'Italia, come se la sono indivisa. Ascolta un attimo. L'Ughe e l'Air France. L'Altergal 4 e il Gioe Gal 5. Se io prendo la Lufthansa, metto l'Air France e tolgo questo, riprendo la Sumo 7 e mando via 10 mila. Come la facciamo? Giusto o no? Eh? Eh va bene, se tu fai, metti giù i 300 mila euro, prendiamo l'IRPEF, togliamo l'ICI, ori, carte, premiera e 7 bello. Quello in piedi è Veltroni, che dice, io non l'avrei fatta così. Nino, ti t'è perduto, quel Gioe che ti sentite già dopo, eventualmente, se no te vedo via il Q. Il concetto è vero.